...e per la Roma che si è ripresa alla testa della classifica. Grazie a tutti per tutti gli equipi, ragazzi sul futuro, voglio supportare le regole sull'anale, un po' ci sono di una serie, sempre di tutti essi sono delle regole, ragazzi sulle regole, ragazzi. Sì, chiaramente è una grande serata sia per me che per la Roma, insomma vincere in questo modo davanti al nostro pubblico è una cosa davvero importante per noi. C'è due golle all'Olimpico, per te immagino una grande gioia. Abbiamo visto questa sera il miglior Gervinio. Contanto abbiamo anche due viti all'Olimpico, e poi abbiamo in pubblico, a Brescia è un buio campeonato, penso che abbiamo ancora un po' di più di più, abbiamo provato fino alla fine del mio contratto in Italia, e ora si comincia bene e spero di continuare come se. Sì, chiaramente è bellissimo per me segnare qui all'Olimpico, ho iniziato davvero bene, però in realtà ho ancora un contratto che fino alla fine mi metterà legato alla Roma e voglio continuare in questo modo, dunque migliorando. Tu eri a Lille con Garzia, vedi le stesse sensazioni di squadra in questa Roma che sta facendo così bene? Come ho detto, ha il stesso modo di esperienza, non fa differenza tra le gioie, ma tutti hanno la stessa situazione, tenta di creare un feeling tra le gioie, ed è ancora una buona mentalità, ma quando un giocatore senza la confidenza del coach penso che sia il più importante, è quello che fa. Sì, credo che lui abbia installato lo stesso spirito di squadra che aveva prima, si sente la fiducia da parte dell'allenatore, questo aiuta molto i giocatori a esprimersi sul campo. Grazie. Grazie.